Solo il 30% che era destinato al mondo produttivo abruzzese, profondamente colpito da questa pandemia, è arrivato in realtà nel mercato. Questo è un ritardo incredibile che si riversa purtroppo anche su altre due categorie. Il mondo dell'infanzia, 0-6 anni, le scuole, gli asili chiusi, anche per ordinanze strambalate e fanatiche di alcuni sindaci, in realtà non hanno avuto neanche i ristori per le chiusure dello scorso anno. Parliamo di 150 euro a bambino, non sono arrivate, molti asili sono in grande difficoltà. E poi ancora le zone rosse, la Vestina, la Valfino, Caldari di Ortona, alla Pasqua dell'anno scorso erano in grande difficoltà con chiusure veramente importanti e rigide. Avevamo stanziato come centro-sinistra un milione e mezzo di euro per le piccole e micro imprese di quei comuni che avevano subito quelle zone rosse. Per gli uni e per gli altri non è stata fatta neanche la variazione di bilancio che permette di attivare il bando. Quindi non solo non c'è il bando, non c'è neanche la variazione di bilancio che consente lo stanziamento di quelle risorse. Questa è l'attenzione che la giunta di centro-destra, la giunta a guida Marsilio-Lega, riversa al mondo dell'istruzione dell'infanzia e alle zone rosse Vestine e della Valfino. Grazie. Grazie.